Debutto sulla neve in grande stile per i team più rossi che esistono. Come ogni anno i protagonisti di Ducati MotoGP e Ferrari Formula 1 si sono dati appuntamento a Madonna di Campiglio ed inizia proprio sugli sci una stagione che per entrambi i campionati si presenta elettrizzante, sorprendente e con tante variabili pronte a cambiare le carte in tavola. Credo che sia un anno quello che si apre che ci può portare a pensare con una mentalità molto diversa. Per noi il 2009 è stato difficile ma abbiamo superato una situazione complicata e quindi guardiamo a quest'anno che si apre con una fiducia diversa. Che dopo un evento di questo genere abbia lasciato il segno nella storia non solo dello sport automobilistico ma devo dire nell'ambito della comunicazione degli eventi perché davvero rappresenta un momento dove tutti noi possiamo vivere diciamo in maniera diversa all'inizio di una stagione agonistica. Negli ultimi test a Valencia abbiamo approvato la nuova configurazione del motore, la nuova moto, devo dire quella veramente apprezzata. C'è molta più trazione, riesco a fare molto di più con la moto e considerando che Valencia è un buon circuito comunque per la nostra moto e siamo comunque riusciti a fare un ottimo lavoro, ripeto, con una nuova configurazione del motore. Quindi siamo felici da questo punto di vista e penso che questo ci aiuterà poi in pista. Sono molto elettrizzato per la stagione che sta per cominciare. Spero di riuscire a farcela, ad essere veramente pronto. Sempre bello essere qui a iniziare l'anno, qui a Madonna, qui all'evento Vroom, che non è la prima volta che vengo come Nigel ha detto. È già un po' di anni che siamo qui a iniziare l'anno in una forma positiva, divertente, dove siamo tutti qui a lavorare, però anche a divertire, andare a sciare. È sempre un bellissimo evento che dobbiamo anche ringraziare a Filippo Morisi di fare questo bellissimo evento così bene organizzato durante l'inizio dell'anno. E quindi siamo qui a iniziare un altro campionato, un altro anno, speriamo di una forma positiva. Siamo stati dei giorni fantastici per adesso, con un po' di divertimento, con lo sci, poi conoscere i nuovi compagni come Filippo, Giancarlo lo conoscevo, ma è sempre bello essere con lui ancora, anche a sciare e poi anche un po' di lavoro, cominciando oggi e anche domani è divertimento ancora. Quindi delle emozioni molto molto belle, cose che non avevo mai fatto come scendere e sciare alla notte, come abbiamo fatto l'altro giorno, quindi una bella esperienza.